Lo starter, anche pronto, partiti. Asceto Balsamico supera gli avversari interni, ma sono più cattivi quelli di fuori, capeggiati da Mezian. Mezian che va davanti subito con all'esterno Major Conquest e Mariette, Eric, the fighter, sempre the way. Franco Lin, poi Asceto Balsamico in coda, Clarmont insieme a Missoueno. La natura non sfila nessuno e allora Mezian è in vantaggio su Major Conquest e Mariette di fuori, sempre the way. Poi Franco Lin, Eric, the fighter, i sei avanti al resto del drappello, capeggiato da Asceto Balsamico, Clarmont di dentro. In coda Missoueno sulla curva, Mezian, Major Conquest, Mariette, Franco Lin, Eric, the fighter, sempre the way. E Clarmont con Mariette che segue Mezian cercando di fare il tagliafuori su Major Conquest. Poi Franco Lin, Eric, the fighter, di dentro, Clarmont, sempre the way. Asceto Balsamico e Missoueno con l'addirittura Mezian. Mariette hanno all'esterno Major Conquest, poi Eric, the fighter, di dentro, Franco Lin. All'esterno Clarmont e sempre the way con Major Conquest che attacca Mezian. Ancerca il Varco Mariette in mezzo alla pista, Eric, the fighter, poi Asceto Balsamico e Clarmont con la lotta tra Eric, the fighter, Major Conquest, Mariette, Asceto Balsamico e Clarmont. Eric, the fighter, che è in vantaggio su Major Conquest nel finale, Eric, the fighter, Major Conquest, Asceto Balsamico. Torna al successo la Deborah, Fioretti per Fabrizio Ferramosca, Eric, the fighter, di spunto come predilige, battendo Major Conquest che è il 6, Terzo il 2, Asceto Balsamico, quarto il 3, Mariette e poi Clarmont e Mezian. Mezian 3, cioè l'arrivo è 9, 6, i numeri per favore, 2, 9, 6, 2, 3 e per il momento è tutto. Grazie.